Siamo a Barano con il sindaco Gaudioso, è stata una ondata di maltempo fortissima, sindaco Imaronti completamente distrutti. Se siete stati già sul posto come amministrazione, qual è la situazione e se saranno necessari degli interventi praticamente a breve tempo? Purtroppo l'ultima ondata di maltempo ha portato veramente dei danni a Barano, perché fino ad essa era andata abbastanza bene. A Imaronti abbiamo avuto un po' di danni, diciamo a occhio in questo momento la spiaggia è ridotta tantissimo, i tecnici sono in giro a vedere un po' una ricognizione sul territorio, perché abbiamo avuto anche problemi nel cimite, insomma un po' più parti. Dopodiché vedremo un po' quello da farsi, è chiaro che abbiamo sicuramente a occhio già si vede problemi sulla passeggiata, perché il lato Petrelle ha distrutto qualche ristorante pure, vediamo quello che si può fare. Ecco sindaco, non tanti anni fa gli interventi ci sono stati, perché lì è stata messa la scogliera, che è stata messa però bassa, quindi nel fondale, non è stata scelta una scogliera alta. Guardando un po' a lungo termine, per difendere la spiaggia, quello delle mareggiate, è un vecchio problema dei Maronti, ma che cosa si potrebbe fare per cercare di proteggere di più un'arenile che in realtà per l'intera isola di Ischia, non solo per il vostro comune, è fondamentale? Allora, tutto sommato, quando c'è stato il riparcimento nel 2002, adesso è passato 17 anni, la spiaggia ha retto. È chiaro che per quanto riguarda la scogliera penso che ci sono un po' di problemi, infatti noi l'abbiamo anche sollevati, quando si è fatto questo progetto a livello isolano tutti insieme, che adesso mi sembra che il progetto sia anche chiuso, noi abbiamo dato una serie di spiegazioni come fare questa scogliera, probabilmente deve essere modificata, quindi il nuovo progetto prevede delle modifiche a questa scogliera. È chiaro, deve andare avanti, ci vuole un po' di tempo, purtroppo hanno causato questi danni. Però fino adesso la spiaggia aveva retto, adesso dobbiamo vedere come sta. Non solo oggi, è chiaro che poi si vedrà in primavera effettivamente la spiaggia, oggi si conteranno solo i danni, in primavera si vedrà la spiaggia effettivamente qual è.